Hai visto che ore sono? Come al solito sei in ritardo. Mica vorrei andare in ufficio con quei capelli. E poi, lasciatelo dire, guarda che pancia che hai messo su. Fa un po' di movimento, magari dando una mano in casa a mia figlia. Sono il pilota che hai sempre amato. Andiamo, amor mio. Voleremo insieme in luna di miele per 70 giorni. Vorresti avere 70 giorni senza tua suocera? Impossibile! Ma con Sara puoi avere 70 giorni gratis di assicurazione auto sui 12 mesi acquistati. Il modo più bello per festeggiare con Sara i suoi 70 anni. Fai una quotazione su Sara.it o in un'agenzia Sara. Offerta soggetta a restrizioni e riservata ai nuovi clienti, valida fino al 31 12 2016. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su Sara.it o in agenzia.